Non è nuova al pubblico di Tele Libertà, Federica Infante, cantautrice piacentina classe 84, comparsa anche qualche anno fa in una puntata di Piacenza di Notte, protagonista del panorama musicale locale con un repertorio rivolto alla musica d'autore. Federica, chitarrista e pianista autodidatta, dopo numerose esperienze come frontman in diverse band musicali, ha deciso qualche anno fa di intraprendere la carriera solista, scrivendo e arrangiando personalmente i propri pezzi. Dopo lo sceglimento della band ho iniziato a mettere giù le mie idee, a scrivere i miei pezzi, che ho scritto io, Testo e Musica, appunto a Tell Me, che era in collaborazione. Mi c'è voluto un po' di tempo per accogliermi e anche per riformarmi, per ritrovarmi, perché comunque questo lavoro sarà molto diverso, racchiude e descrive di più quella che sono oggi e quello che io avevo da dire. La giovane artista si racconta i nostri microfoni, anticipando l'uscita del suo prossimo singolo, che uscirà venerdì 21 luglio. Venerdì prossimo, il 21, esce il mio singolo Tell Me, che anticipa l'uscita dell'album, che invece sarà pronto verso ottobre. Tell Me è un pezzo scritto a quattro mani, con altri tre autori, e prodotto da Nicolò Savinelli, che è anche il regista del videoclip. Tell Me, in italiano chiamami, è un singolo fortemente autobiografico. La mia scrittura, per il momento, io sono una cantautrice, direi, giovane, e per il momento racchiudono comunque tutte esperienze personali. Questo pezzo racconta comunque una mia storia, una storia sentimentale, chiusa, con tutta la disperazione che raccoglie. È una donna forte che chiede le ultime spiegazioni prima di lasciarlo andare, praticamente. Giovane, ma dalle idee chiare. Quando si tratta di fare arte sotto forma di musica, per l'artista piacentina non bisogna scendere a compromessi. Il futuro musicale a livello lavorativo, soprattutto in Italia, è difficile, è complesso, soprattutto per chi ci ha provato. Io ho fatto un giro nel mondo della musica serio, tra virgolette. E' veramente a porte chiuse. E quindi ho avuto il piacere di tornare indietro e di godermi di più la parte proprio libera, senza gli obiettivi quasi. E quindi ho lavorato su questa cosa, mi sono concentrata su fare, prima fare la mia musica. E casualmente poi, adesso che l'ho fatta, stanno venendo fuori varie opportunità. Diciamo che prendo quello che viene. Io comunque nella vita lavoro, faccio altro. Se domani riuscirò a viverci, meglio ancora. Anzi, è quello che dai, alla fine tutti vorrebbero. È un desiderio, diciamo così. Un'estate di lavoro per questa giovane cantante, che oltre al brano Tell Me, lancia anche il suo prossimo appuntamento sul palco. Alla Filmor Summer Festival, che ci sarà a Corte Maggiore. Sarà anche un gran ritorno, nel senso che da tanto tempo che manco, e ho una voglia incredibile, anche perché poi fondamentalmente è il mio posto preferito, è dove uno si esprime meglio. E sarà una versione unplugged, però. Nel senso che sarà accompagnata da pianoforte e chitarra, invece il pezzo, nella sua bellezza, diciamo completa, sarà disponibile sia subito da quel giorno, online, anche il video. Una voce calda e potente, che attraverso le note, invita a rialzarsi dopo le piccole o grandi batoste della vita, perché alla fin fine, come dice il titolo dell'album, non importa. L'importante è andare avanti.